L'amministrazione comunale di Mistretta fa il bilancio della fiera di settembre che quest'anno ha avuto alcune novità. Il sindaco Porracciolo specifica che avevano già pensato di organizzare un evento importante a corollario della fiera ma in occasione del terribile sisma che ha colpito il centro Italia hanno deciso di inserire all'interno della sagra rucudurune del concerto degli energy splash big band una raccolta fondi da destinare ai terremotati. E grazie alla solidarietà dei comuni viciniori, delle associazioni e dei cittadini, tutti, ieri sera si è riusciti a racimolare 1200 euro che non sono pochi data la crisi economica che sta attanagliando il paese. Già questa mattina i volontari della protezione civile di Mistretta hanno inoltrato il bonifico dei proventi raccolti alla protezione civile nazionale che provvederà a mandarli a destinazione. Abbiamo fatto un bel lavoretto in collaborazione con le altre associazioni, abbiamo organizzato con l'amministrazione comunale questa raccolta fondi e siamo riusciti ad avere 1200 euro. È stato difficile sì perché in questo periodo di magra diciamo e non solo questo c'è troppo crisi quindi arrivare a un paesetto come il nostro arrivare a 1200 euro è è stato molto difficile.